Grazie a tutti investire una persona mica so pinze e fighi eh. Ciao ma, come vado a scuola? Normale. Noi adesso senza volerlo abbiamo fatto un favore immenso al clan dei Pantano. Ma è stato un infame. Trovate il modo per far te tra. Stai ma sparato? Si si. Eh? No? Si è bacia solo, eh? No, è morto, no. A te già ti conosco. Ciao. Ciao. A me, ma perché invece le sta sempre con Manolo? Stai un po' con tua madre. Sapiamo tutto l'uno dell'altro. Mi dici che cazzo è successo? Ma che ti hanno fatto per state così sul cazzo? I giovani devono poter sognare. Nooooo! Ci pensiamo a quasi radio. A volte. Strano eh? A zero a mille così, boo. grazie